Nuova Lancia Stratos, un video ci mostra da vicino l'esemplare di Mikhail Stoshek. Non un video breve per vedere da vicino la Lancia Stratos, esemplare unico di Mikhail Stoshek, imprenditore tedesco, ma ben 13 minuti con tanto di intervista per apprezzare nei minimi particolari la sua vettura tanto attesa. Questa Lancia Stratos è stata talmente tanto apprezzata che Pininfarina e Mikhail Stoshek hanno ricevuto circa 40 richieste da appassionati che sono interessati all'esemplare. La nuova Stratos è nata prendendo come base la 430 Scuderia, ma prende alcune distanze dal modello originario, in quanto ha caratteristiche estetiche e qualche aggiunta meccanica. Infatti la Stratos parte dalla base del motore della Scuderia Ferrari V8 4,3 litri, ma riesce a derogare ben 30 cavalli in più di potenza, toccando quota 540 cavalli. Con un motore del genere le prestazioni non potevano che essere eccelse, infatti si parla di un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 3,3 secondi e da 0 a 200 km orari in 9,7 secondi. Caratteristica che però non va assolutamente tralasciata è il suo prezzo che è di 400.000 euro, praticamente 100.000 euro della Ferrari F430 e 300.000 euro per la sua conversione. Calcolando che il progetto compressivo per la realizzazione di questa Lancia Stratos è costato 3 milioni di euro e calcolando che coloro che l'hanno già richiesta sono 40 appassionati, potete bene immaginare che introito potrebbe esserci. Grazie. 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 Grazie.